Mister Domenica prima di due trasferte consecutive, si fa sul campo del San Giorgio, partita di certo non semplice? No, partita è tutt'altro che semplice. Il San Giorgio viene da un pareggio fatto a Ottaviano ma avranno sicuramente tutti gli stimoli per cercare di fare in casa quei punti che gli consentirebbero di tirarsi fuori dalla zona a rischio. Certo bisogna cancellare il primo tempo contro la Virtus.Volla e entrare con tutto un altro approccio in campo. Sì, non solo il primo tempo, anche il secondo. Bisogna scendere in campo con una mentalità completamente diversa. Bisogna andare a fare una partita importante su un campo, come ho detto, molto difficile. Non sarà semplice, però questa settimana abbiamo lavorato bene, per cui speriamo che Domenica di portare a casa una vittoria. Torna Piccirillo fra i disponibili, però ci saranno sicuramente indisponibili. No, Piccirillo martedì ha avuto un fastidio muscolare, per cui non so ancora se sarà arruolabile. E allo stesso modo Pasquale Savio, che tutta la settimana non si è allenato. Quindi sapremo soltanto in ultimo se sarà tra i disponibili o meno. Mi sarà breve se apre il mercato, ci sta già qualche idea, già sapete dove intervenire o se intervenire? No, al momento con la società non abbiamo parlato ancora di niente, perché è ancora un po' prematuro. Vediamo un attimino, dopo adesso la testa è proiettata solo sul campo, poi vedremo se sarà il caso di intervenire e dove.